Realizzazione di un fascio per arrivi partenze di 10 nuovi binari, 4 di questi lunghi 750 metri, un nuovo apparato tecnologico, una revisione del collegamento con l'area portuale con il rifacimento e la realizzazione di nuovi varchi. Questi gli interventi pesanti e più significativi che interesseranno la stazione ferroviaria di Campomarzio a servizio del porto di Trieste nel 2024 con l'obiettivo di arrivare al completamento delle opere nel 2027. Saranno invece posticipati di un anno i lavori alla stazione di Opicina, compreso il collegamento con il bivio di Eurisina. Sono le novità apprese dall'ultima versione del piano commerciale di rete ferroviaria italiana. Sono già stati attivati una serie di interventi costituenti una fase propedeutica che hanno aumentato le potenzialità dell'infrastruttura, come il collegamento diretto tra Servola e la linea di cintura e la Transalpina, che collega direttamente Trieste e Campomarzio con Villa Opicina. I benefici saranno notevoli in termini di capacità teorica ammessa, avvicinandosi, come recentemente ricordato dal presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino, alla capacità massima prevista per il porto di Trieste fissata in 25.000 treni l'anno. Slitta invece al 2025, per ragioni legate alla negoziazione e progettazione, l'intervento a Villa Opicina, stazione sempre più importante per lo scalo internazionale con lo sguardo rivolto ad est. Gli interventi previsti e finalizzati al potenziamento della linea B-Vio-Risina-Villa Opicina sono, così come per Campomarzio, sostanzialmente divisi in due fasi. La prima prevede il rinnovo dell'apparato centrale per la gestione della circolazione, il rifacimento del piano ferro, incluso l'adeguamento a 750 metri, la velocizzazione degli itinerari deviati a 60 km, ulteriori interventi infrastrutturali e tecnologici sulla stazione. La fase 2 prevede la soppressione del passaggio a livello nelle ex stazioni di Prosecco, nonché il potenziamento tecnologico della tratta B-Vio-Risina-Villa Opicina.